Conosciamo ormai già da tempo l'utilizzo dei display flessibili sui dispositivi mobili, essenzialmente smartphone. Sono stati introdotti anche nel segmento dei PC in alcuni laptop Lenovo e Asus ma al momento il mercato appare ancora più di nicchia. Durante la prima giornata dell'evento Intel Innovate 2022, il CEO di Samsung DisplayJS Choi è salito sul palco per presentare il primo schermo scorrevole da 17 pollici e al mondo destinato ai futuri PC. Quando è compresso nella sua dimensione più compatta, il display Samsung trasforma il dispositivo in una sorta di tablet da 13 pollici. Punto e virgola aperto completamente, invece, lo schermo ha come detto una diagonale pari a 17 pollici. Il display si srotola o si arrotola su se stesso nel momento in cui l'utente trascina verso l'esterno o spinge verso l'interno. La cornice del dispositivo, quello svelato da Samsung è ancora un prototipo, non una soluzione destinata ad arrivare nel breve termine in un prodotto commerciale. Purtuttavia il suo comportamento è chiaramente illustrato in un video pubblicato su Twitter. Quasi sicuramente il display sarà di tipo OLED anche se il numero 1 dell'azienda sudcoreana non ha ancora chiarito gli altri dettagli tecnici come la risoluzione e la frequenza di refresh utilizzata. Intel ha sperimentato per anni nuovi fattori di forma per PC e l'ultimo tentativo di portare dispositivi pieghevoli a doppio schermo. Sul mercato di massa non è nemmeno iniziato. Microsoft, invece, ha abbandonato i suoi piani per lanciare Windows 10X sui dispositivi pieghevoli. A questo proposito va detto che i nuovi dispositivi basati su schermi come quello svelato da Samsung necessitano di un sistema operativo, in grado di supportarli e di applicazioni specifiche in grado di metterne in evidenza i vantaggi. A questo proposito Microsoft potrebbe recuperare parte del lavoro svolto con Windows 10X. Cos'è e come funziona Intel e Unison? Il display di Samsung è stato utilizzato dai tecnici di Intel per una dimostrazione del funzionamento di Unison, una soluzione software che vuole semplificare il trasferimento di dati tra PC Windows e dispositivi Android e iOS. Intel racconta che basta un clic per inviare un file da Windows ad Android o iOS e viceversa, accedere alla messaggistica, gestire. Da PC le chiamate su smartphone. Microsoft propone in Windows l'app collegamento al telefono Android ma essa funziona al momento solo con i dispositivi del robottino. Verde e non tutte le funzionalità sono disponibili per tutti gli utenti. Si pensi al mirroring. Intel e Unison vuole invece essere una soluzione a tutto tondo, la prima all'infuori dell'offerta Apple, a consentire l'utilizzo diretto di un iPhone con Windows. Al momento si sa che Unison debuterà sui PC portatili Intel Evo basati su processore di dodicesima e tredicesima generazione. Della partita sono i partner storici di Intel quali Acer, HP e Lenovo. Non è però dato sapere se Unison sarà attivabile e utilizzabile anche sui PC più vecchi.